Number 19, coming on to replace him is number 20 Roberto Baggio, ecco perché amiamo questo gioco per gol come questo questo è un gol stupendo, stupendo tre gol di vantaggio, si spegne la luce per gli avversari la bellezza cristallizzata in un gol, come non amare il calcio ha preparato il pallone con cura, voleva metterlo proprio lì ed è riuscito nel suo intento, facendolo quasi sembrare semplice